Quanta bambini prendono? Vanno a scuola, qui c'è un anzio unito e il villaggio davanti, che vi faccio vedere, c'è una scuola elementare e poi già dalla scuola media possono andare alla scuola con il traghetto da soli invece quella elementare la mamma va e torna con il traghetto i bambini facevano il bagno qui, la doccia nel loro paletto era pieno di vita e poi li ha torture sempre e guardate queste case che qui tipo questa, non vive più nessuno perché vengono abbandonate le case quando i genitori muoiono e i nonni prendono e i giovani vanno ad Aswan, vanno al calcio spero che la partizia è con te e lui è diciamo e poi se che lì ci sarà un po' dopo il direttà sono stata, è così, più per amici e allora andiamo nell'altro villaggio davanti c'è la scuola elementare e il campo da calcio? qui dove gli altri villaggi di fronte non hanno spazio per fare un campo da calcio e infatti vengono a giocare anche loro qua in questa idola e poi c'è la moschea, è nuova, inaugurata quest'anno la moschea grande è molto grande rispetto al numero... che ti dirò? quindi conosciamo il Nubialismo nel villaggio trovi un campanello, una scarpa del bambino al pollo in modo che la gente guarda quella cosa e non guarda la volta di vedere la molta paura di ididia così entriamo adesso nella casa del Nubial questa è una bella casa è una bella casa perché i soldi e poi avete pagato una parte e arriva allora mio bambino Ah, è frescorino. Sì, per me aspettare un minuto. Sì, per me lo portano all'acqua. Prendono l'acqua. Dio, guarda per me. Dio, guarda per me. E anche lo guardano dai bambini. Perché quando portano la tutta e la mettono, lì vengono e non li mangiano e non lascia niente al resto della vita della famiglia. E non fa senza. Quando piove si scioglie, quando l'ultima volta che ha piovuto pioggia, normale, era nel 2021. 2021. Pioggia invernale. È quella che qua è capitata. Invece a metà agosto ha più burro, tanto, ma è normale. E questo è il po' per l'uja. Vediamo che coraggioso lo può tenere come lui in mano. Il po' per l'uja è legato. Sì. Io sì. Vieni, mamma, fammi un apporto. Sì, è la verità. 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 è la verità. La verità. è la verità. la verità. la verità. è la verità. è la verità. la verità. È la verità. La verità. È la verità. È la verità. La verità. È 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 la verità. La verità.